C'era una volta una povera donna che diede alla luce un maschietto e poiché il neonato aveva indosso la camicia della fortuna gli predissero che a 14 anni avrebbe sposato la figlia del re. Dopo pochi giorni il re in persona giunse nel villaggio e senza farsi riconoscere domandò che cosa vi fosse di nuovo. Gli risposero è nato un bambino con la camicia della fortuna a 14 anni sposerà la figlia del re. Al re la notizia non piacque e così andò dai poveri genitori e domandò se volessero vendergli il loro bambino. Da prima questi rifiutarono ma poi siccome lo sconosciuto insisteva tanto offrendo oro in quantità e loro non avevano neanche il pane quotidiano finirono con l'accettare e pensarono è un figlio della fortuna non gli mancherà nulla. Il re prese il bambino lo mise in una scatola e proseguì a cavallo finché giunse a un corso d'acqua profonda vicettò dentro la scatola e pensava così non diventerà il marito di mia figlia. Ma la scatola galleggiò e per grazia di dio non vi entrò neanche una goccia. Fu traccinata dalla corrente fino a un mulino a due miglia dalla capitale e là si impigliò nella diga. Il garzone del mugnaio la vide e la tirò a riva con un uncino. Pensava di trovarci dentro del denaro tanto era pesante invece quando l'aprì trovò un bel bambino allegro vispo. Il mugnaio e sua moglie non avevano figli perciò furono contenti e dissero è un dono di dio così ebbero cura del trovatello e questi crebbe pieno di virtù. Quando furono trascorsi circa tredici anni un giorno il re capitò per caso al mulino e domandò ai mugnai se quel ragazzo fosse loro figlio. No risposero questi il garzone l'ho trovato in una scatola che era arrivata galleggiando fino alla diga. Quanti anni fa è successo? domandò il re. Circa tredici anni fa. Sentite e gli proseguì il ragazzo non potrebbe portare una lettera a sua maestà la regina? Mi renderebbe un grande servizio e per questo sarei disposto a ricompensarlo con due monete d'oro. Come comanda sua maestà? disse il mugnaio. Ma il re accortosi che era proprio il figlio della fortuna. Scrisse una lettera alla regina nella quale si diceva appena arriverà il ragazzo con questo scritto si è ucciso e seppellito e tutto ciò si è fatto prima del mio ritorno. Il ragazzo si incamminò con la lettera ma si smarrì e la sera si trovò in una grande foresta. Nell'oscurità vide un lumino e si diresse e giunse a una casetta. Dentro non vi era altri che una vecchia che si spaventò nel vederlo entrare e disse dove vieni e dove vai? Vado da sua maestà alla regina le devo portare una lettera ma mi sono sbarrito e vorrei pernottare qui. Povero ragazzo disse la donna sei capitato in una casa di briganti quando saranno di ritorno ti uccideranno. Sono così stanco che non ce la faccio a proseguire rispose egli mise la lettera sul tavolo si straiò su una panca e si addormentò. Quando rientrarono i briganti e lo videro domandarono chi fosse lo sconosciuto. L'ho accolto per compassione disse la vecchia devo portare una lettera alla regina e si è smarrito. I briganti presero la lettera l'aprirono e lessero che il ragazzo doveva essere ucciso. Allora il capobanda la stracciò e ne scrisse un'altra dove si diceva che il ragazzo al suo arrivo doveva sposare la figlia del re. Poi lo lasciarono riposare fino al mattino quindi gli diedero la lettera e gli indicarono il cammino per arrivare alla regina. Non appena ebbe letto il messaggio questa fu felice nel preparare le nozze e poiché il figlio della fortuna era di bello aspetto la figlia del re lo prese volentieri come marito ed essi vissero felici insieme. Qualche tempo dopo il re fece ritorno al castello e quando vide che la profezia si era avverata e che il figlio della fortuna era sposo di sua figlia domandò spigottito come sono andate le cose che ho scritto nella lettera. Caro marito disse la regina qui c'è la tua lettera leggila tu stesso. Il re la esse e capì subito che era stata scambiata e domandò al giovane che ne fosse stato dello scritto che gli aveva consegnato. Non ne so nulla rispose devono avermela scambiata mentre dormivo ma il re incollerito disse no così non va chi vuole mia figlia deve riportarmi dall'inferno i tre capelli d'oro del diavolo se mi riporti potrai tenerti mia figlia. Li avrò rispose il figlio della fortuna si accomiatò da sua moglie e incominciò il suo viaggio. Arrivò a una grande città sulla porta la sentinella gli chiese quale fosse il suo mestiere e che cosa sapesse. So tutto rispose il figlio della fortuna dici allora per favore replicò la sentinella perché la fontana della piazza da cui di solito sgorgava vino ora non dà più nemmeno acqua. Se ce lo dici ti daremo in ricompensa due asini carichi d'oro. Volentieri rispose il giovane aspettate che io torni. Proseguì e giunse davanti a un'altra città e anche questa volta la sentinella gli chiese qual è il tuo mestiere e che cosa sai. So tutto rispose allora dici per favore perché un albero che di solito portava miele d'oro adesso non mette neppure le foglie. Volentieri rispose il giovane aspettate che io torni. Proseguì la sua strada e arrivò a un gran fiume che doveva attraversare. Il barcaiolo gli chiese che mestiere fai e che cosa sai. So tutto rispose allora dimmi per favore disse il barcaiolo perché devo sempre remare senza che nessuno mi dia il cambio. Te ne sarò riconoscente. Volentieri rispose il giovane aspetta che io torni. Passato il fiume trovò l'inferno. La dentro era tutto nero e fuliginoso e il diavolo non era in casa. C'era soltanto sua nonna seduta su una grande poltrona. Che vuoi? gli chiese. I tre capelli d'oro del diavolo rispose il ragazzo. Se no non posso tenermi la mia sposa. Mi fai pena disse il. Se viene il diavolo ti ucciderà. Ma voglio vedere cosa posso fare per te. Allora lo trasformò in una formica e disse. Nasconditi fra le pieghe della mia sottana. La sei al sicuro. Sì rispose quello. Vorrei anche sapere perché una fonte da cui di solito sgorgava vino non dà più nemmeno acqua. Perché un albero che di solito portava mele d'oro ora non mette più nemmeno le foglie. E perché un barcaiuolo deve sempre remare senza che nessuno gli dia il cambio. Sono tre domande difficili rispose la vecchia. Ma sta zitto e fa attenzione a quello che dice il diavolo quando gli strappi i tre capelli d'oro. Non molto tempo dopo sul far della notte il diavolo tornò a casa. Fiutò a destra e a sinistra e disse. Sento odore. Sento odore di carne umana. C'è qualcosa che non va. Allora lo vistò e guardò dappertutto ma in vano. La nonna lo sgridò e disse. Non buttarmi tutto per aria. Ho appena spazzato. Siedi e mangia la tua cena. Hai sempre l'odore di carne umana nel naso. Allora il diavolo mangiò e beve. Poi posò la testa in grembo alla nonna. Disse che era stanco e le chiese di spidocchiarlo un po'. Non tardò ad appisolarsi soffiando e russando. Allora la vecchia strappò un capello d'oro. Lo strappò e se lo mise accanto. Hai! gridò il diavolo. Che c'è? Ho fatto un brutto sogno. Dispose la nonna. E allora ti ho preso per i capelli. Cos'hai sognato? Ho sognato che una fontana da cui di solito sgorgava vino è asciutta e non dà più nemmeno acqua. Come mai? Ah? Se lo sapessero rispose il diavolo. Nella fontana sotto una pietra c'è un rospo. Se lo uccidono riprenderà a scorrere il vino. La nonna si rimise a spidocchiarlo finché egli si addormentò e russava da far tremare i vetri. Allora gli strappò il secondo capello. Oh che fai? gridò il diavolo furente. Non andare in collera. E la rispose. L'ho fatto in sogno. Cos'hai sognato di nuovo? Ho sognato che in un regno c'è un albero da frutta che prima portava mele d'oro e ora non mette più nemmeno le foglie. Come mai? Eh se lo sapessero rispose il diavolo. C'è un topo che rosicchia la radice. Se lo uccidono darà di nuovo mele d'oro. Se invece il topo continua a rosicchiare l'albero si seccherà del tutto. Ma lasciami in pace tu e i tuoi sogni. Se mi sveglio un'altra volta ti busco una sberla. La nonna lo spidocchiò nuovamente finché gli si addormentò e si mise a russare. Allora gli afferrò anche il terzo capello d'oro e lo strappò. Il diavolo saltò per aria e voleva fargliela pagare ma essa lo calmò e disse. Sono brutti i sogni. Ma cos'hai sognato? Ho sognato un barcaiuolo che doveva sempre andare su e giù senza che mai nessuno gli desse il cambio. Come mai? Eh vabbè rispose il diavolo. Quando uno va per attraversare il fiume deve mettergli in mano la pertica. Allora lui sarà libero e l'altro dovrà fare il barcaiuolo. Ma spidocchiami adesso che possa riaddormentarmi. Allora la nonna lo lasciò dormire e allo spuntar del giorno il diavolo se ne andò. Quando si sentì al sicuro ella tolse la formica dalle pieghe della sua gonna e ridiede sembianze umane al giovane. Poi gli diede i tre capelli d'oro e disse. Hai sentito ciò che ha detto il diavolo? Sì, rispose il figlio della fortuna e terrò tutto a mente. Non ti occorre altro, disse ella. Ora vai per la tua strada. Egli ringraziò la nonna del diavolo e lasciò l'inferno. Quando giunse dal barcaiuolo che doveva trasportarlo dall'altra parte del fiume questi voleva avere la risposta promessa. Portami prima dall'altra parte, disse il ragazzo, poi te la dirò. E come scese dalla barca gli diede il consiglio del diavolo. Quando viene qualcuno che vuole essere portato sull'altra riva mettigli la pertica in mano e scappa. Poi il giovane proseguì e giunse alla città dove si trovava l'albero rinsecchito e anche la sentinella gli chiese la risposta. Allora egli disse quello che aveva sentito dal diavolo. Uccidete il topo che lo sicchia le radici e l'albero tornerà a dare vele d'oro. La sentinella lo ringraziò e come ricompensa gli diede due asini carichi d'oro che dovettero seguirlo. Infine arrivò alla città della fontana prosciugata e anche lì la sentinella volle avere la risposta. Nuovamente egli riferì le parole del diavolo. È un rospo sotto una pietra, cercatele e uccidetelo e la fontana tornerà a dare vino. La sentinella lo ringraziò e gli diede altri due asini carichi d'oro. Il figlio della fortuna giunse finalmente a casa da sua moglie e si rallegrò di cuore rivedendolo e sentendo che tutto era andato bene. Egli diede i tre capelli d'oro del diavolo al re così che questi non trovò più nulla da ridire. E quando vide i quattro asini carichi d'oro disse tutto contento. Ma dimmi caro genero da dove viene tutto quell'oro? È un'immensa ricchezza. L'ho trovato vicino al fiume rispose il figlio della fortuna e ce n'è ancora. Posso prenderne anch'io domandò il re pieno di avidità. Quanto ne volete rispose il giovane. Sul fiume c'è un in fretta e furia e quando giunse al fiume fece cenno al barcaiuolo che lo prese con sé. Ma come furono dall'altra parte e il re volle sbarcare il barcaiuolo gli mise in mano la pertica e saltò a terra. Così il vecchio dovette remare come punizione per i suoi peccati. E lo fa ancora? Come no? Certo nessuno gli avrà tolto il remo.